io credo che non si fa molto caso ai pericoli dell'americanismo un'eresia che leone tredicesimo già condannò nel 1899 ma che purtroppo ancora è ben viva in larghi settori della popolazione americana anche quella cattolica e tradizionalista già perché noi pensiamo che sia possibile scindere questa tendenza e che l'essere tradizionalisti metta al riparo dai pericoli dell'americanismo in pochi casi è vero non in tutti questo perché quel tipo di mentalità è pervasiva di larghissimi strati della società e va a influenzare un po' dovunque questo è ovviamente derivante da motivi storici che risalgono alla fondazione degli stati uniti alla decisiva influenza del protestantesimo tutto questo causò quelle idee anche nel cattolicesimo idee che leone tredicesimo condannò come detto ad esempio l'esaltazione delle virtù attive rispetto a quelle passive l'idea che l'azione sia meglio della contemplazione che poi tanto possibile non è purtroppo questo porta come ovvia conseguenza al fatto che spesso il pensiero che viene dagli stati uniti non abbia quelle sfumature che sole permettono una profonda comprensione se il pensiero deve essere un sole bisogna anche saper guardare le ombre in molti casi quello che viene proposto dagli stati uniti è tagliato con l'accetta a solo due dimensioni gli manca la profondità inoltre c'è uno spirito di competizione mal sano per cui con macchiavelli il fine giustifica i mezzi lo straniero viene giudicato non sul suo valore effettivo ma attraverso standard che loro stessi creano in base alle proprie esigenze loro stabiliscono le regole del gioco nel modo più favorevole a loro e poi si rallegrano perché vincono spesso di tutto questo sempre loro non hanno tutte le colpe la colpa è anche di un'europa in belle che non difende la propria identità e che accetta acriticamente ogni cosa senza difendersi ovviamente ci sono autori americani che sfuggono a questo giudizio ma la buona parte di quello che ci arriva purtroppo rientra nella descrizione di cui sopra queste idee che il fare è superiore all'essere e che quindi l'attivismo diviene criterio della verità purtroppo hanno trovato anche applicazioni nella moderna liturgia il fare ha preso il predominio sull'essere sfigurando così la liturgia cattolica questo attivismo spirituale può sembrare positivo ma a volte tutto questo affannarsi cerca di coprire un vuoto una mancanza di sostanza io credo dovremmo trattare gli autori americani anche in ambito cattolico e tradizionale come tutti gli altri purtroppo in molti ancora esiste il complesso da seconda guerra mondiale con la popolazione italiana che coglieva i soldati americani che buttavano un po' di cioccolata io credo che dovremmo essere un poco più orgogliosi della nostra cultura della nostra identità l'europa è veramente culla della civiltà e della civilizzazione mondiale una realtà fortemente ancorata alla tradizione negli stati uniti predomina la prassi cioè il predomino della tecnica sul pensiero funziona il whatever it takes piuttosto che quello che è buono e giusto e vero gli stati uniti guidano l'occidente l'occidente capitalista e tecnocratico sazio e disperato l'occidente che ha relegato la religione nel passato l'europa dovrebbe riscoprire quella forza spirituale che permise il suo essere faro di civiltà vera per tutto il mondo la culla del pensiero dovrebbe tornare ad essere roma atene parigi e via dicendo noi diamo molto spazio a tutto quello che viene dagli stati uniti ma quanto loro ne danno a noi poco o niente se non ti conoscono oppure se nella tua patria hai fatto cose importanti spazio non ne avrai mai e visto che loro si danno spazio fra se stessi sarà molto difficile che potrai essere conosciuto noi invece accogliamo tutto senza discriminare e non facciamo bene il comico francese gad el malet ha fatto una divertente serie su netflix dove faceva vedere come pur essendo egli famosissimo in francia negli stati uniti era nessuno anzi per molti non era neanche semplice trovare la francia sulla cartina geografica perché diciamolo chiaramente non è che gli americani siano poi così interessati al mondo esterno per molti di loro questo mondo esterno concide con i confini del loro paese non notate i sondaggi di origine statunitense in cui una rivista legge l'uomo o la donna più sexy del mondo che quasi sempre è un americano o un'americana perché non dite l'uomo o la donna più sexy degli stati uniti perché per loro il mondo e gli stati uniti coincidono già dalla loro fondazione si è inoculata questa idea per cui sarebbero il popolo eletto che deve convertire tutto il mondo alla loro idea della storia e della democrazia i romani volevano estendere il loro impero al mondo gli americani si stupiscono perché il mondo non sia già loro impero spontaneamente visto che come loro dicono sono il più grande paese mai esistito purtroppo la situazione non è così semplice e anzi è anche pericolosa perché in loro spesso l'ambizione precede l'azione che precede la contemplazione è tutto rovesciato dovrebbe essere la contemplazione che guida l'azione che permette una giusta ambizione quella di fare in modo che la propria voce possa essere ascoltata di più e meglio ho molti amici americani che capiscono questi enormi problemi e cercano di combatterli per quello che possono ovviamente potrei anche criticare gli italiani francesi gli spagnoli portoghesi gli inglesi tedeschi per i loro difetti il problema è che questa mentalità americana è molto più pericolosa e distruttiva di questo certamente soffrono i buoni americani che si rendono conto del problema e che cercano di sfuggirlo il problema non è amare il proprio paese questo certamente deve essere incoraggiato il problema è non considerare gli altri è credere che il proprio paese sia investito di un ruolo quasi messianico e che in lui è la salvezza del mondo no la salvezza del mondo è cristo non c'è altro nome o paese o ideologia che può sostituirlo grazie mille 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 grazie mille